amici ben tornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi facciamo una puntata sulla base di tante richieste che ricevo soprattutto per mail ricevo tantissime richieste o tantissime richieste di consigli su quali macchine come se noi fossimo capito il centro dell'universo per quanto riguarda i gusti e le tendenze quali macchine potremmo suggerire per un prossimo acquisto quindi abbiamo deciso di fare un video su quelli che possono essere le nuove uscite o le nuove tendenze o i nuovi modelli che usciranno nel corso del 2024 abbiamo messo giù un elenco di 10 12 nuove vetture e questo potrebbe essere uno spunto un tema interessante per coloro che magari non hanno le idee chiare o non sanno dell'uscita di determinati modelli quindi ci siamo documentati sulla base di una rivista perché non è che anche noi conosciamo tutto il mondo dell'auto nel suo insieme quindi ci siamo documentati su una rivista che appunto ha indicato i 10 12 modelli che probabilmente saranno le new entry o faranno tendenza nel corso del 2024 a questo punto inizierei velocemente con la prima penso che tutti sappiano che alfa ha in programma brevissimo il lancio dell'alfa milano che è una crossover in sostanza una mini crossover adesso vanno la tendenza delle diciamo la nuova tipo di carrozzeria che fa più tendenza è il cosiddetto crossover diciamo io ho dato un'occhiata le linee del della vettura sono sicuramente belle seguono un po quello che è stato fatto iniziato dalla stelvio poi seguito dalla tonale diciamo che la milano è la sorella il fratello piccolo di questi altri due l'unico peccato poi faremo comunque un video che parlerà di questa cosa e che come voi sapete stellanti si è stata praticamente svenduta è un termine corretto svenduta è proprio il termine specifico ai francesi al gruppo psa quindi questa alfa milano il cuore non è più alfa ma è proprio stata sviluppata sulla piattaforma della peugeot 3008 quindi sostanza è una 3008 vestita con con una carrozzeria marchiata alfa romeo quindi diciamo che la bisogna tener conto appunto di questa di questa di questa situazione e ripeto adesso poi qui chiudo avremo appunto fare un video per far capire che cosa è successo dopo la morte di marchione per tutto per quello che riguarda l'industria italiana in maniera specifica il gruppo fiat alfa benissimo chiuso questo inciso la seconda vettura molto interessante che uscirà a breve è la cupra tavascan in questo caso si tratterà di un sub 100 per cento elettrico quindi la tendenza alcune case per fortuna non tutte alcune case proporranno dei modelli specifici solamente in versione full elettrica come appunto sarà il caso di questa di questa sub tavascan un'altra novità che devo dire ha avuto un successo incredibile per un semplice rapporto prezzo qualità e la nuova dacia duster che ha avuto un successo commerciale in italia sul sicuro enorme penso anche comunque in europa è una vettura che chiaramente i cui contenuti sono superiori al prezzo ovviamente ha fatto diciamo non so esattamente quando sia stata lanciata la duster non da tantissimi anni però è arrivato il momento di fare un restyling consistente quindi tutti coloro che dovessero decidere di approcciare una vettura di buona qualità a un prezzo particolarmente contenuto questa potrebbe essere una soluzione ideale un'altra soluzione in linea con quella appunto della dacia duster è la nuova panda anche in questo caso la panda una vettura di fascia media medio bassa e potrebbe essere altrettanto interessante anche in questo caso riprendo quello che avevo detto all'inizio non è se nonostante sia una vettura fiat o teoricamente marchiata fiat questa vettura viene verrà prodotta in serbia quindi benissimo marchiare la fiat quello che vogliamo però è solo un simbolino che viene attaccato alla calandra e tutto quello che è l'aspetto in commerciale l'indotto i fornitori in italia della nuova panda ne sentiranno solo parlare non non potranno farci assolutamente nulla anche in questo caso è una finta fiat perché sarà fatta sul telaio sul sulla piattaforma della citroen c3 quindi anche questo caso si tratta di una vettura al gruppo psa travestita con il marchio fiat come nel caso appunto dal famigliano travestita con il vestito alfa romeo un'altra vettura che probabilmente pochissimi si potranno permettere comunque interessante farla diciamo citarla e la lamborghini la nuova lamborghini huracan in questo caso la particolarità è che sarà la prima vettura del gruppo lamborghini che poi fa parte del gruppo audi ad essere ibrida quindi sarà un vuoto biturbo in versione ibrida quindi penso che pochi a pochi interessi una vettura di questo genere perché sarà una vettura di che costa appunto cifre veramente quasi proibitive ritornando con i piedi per terra un'altra vettura interessante tipo la panda precedente e la nuova lancia y adesso stanno facendo una campagna abbastanza massiccia in televisione devo dire che per quello che ho visto una vettura molto interessante se vogliamo riprende soprattutto dalla parte posteriore riprende il quello che era l'allora lancia stratos anche in questo caso è fatta su base pegeot 208 quindi scordiamoci che qualunque macchina del gruppo fiat cioè marchiata fiat non del gruppo fiat sia effettivamente una fiat come era anni fa perché adesso sono tutte macchine le gruppo psa come dicevo prima travestite per cui veramente una presa in giro notevole e bisogna fare tirare un po le orecchie a coloro che hanno preso in mano la situazione dopo marchione marchione è veramente stata una persona straordinaria dopo marchione l'azienda è entrata in un loop è veramente allucinante dovuto all'incompetenza di chi la sta gestendo sapete perfettamente di chi parlo veramente persone mediocre persone che pensano solo i loro soldi veramente non vado oltre poi faremo un video apposta su questo discorso ritornando la lancia y anche in questo caso verrà prodotta non verrà prodotta in italia quindi la maggior ragione ulteriore critica e verrà prodotta inizialmente con un 1200 tre cilindri benzina o in versione full electric quindi per il momento sono previste almeno come come lancio poi probabilmente verranno fatte altre motorizzazioni comunque per il momento ci sarà disponibile solo il 1200 tre cilindri e la versione full electric faccio un inciso sul discorso dello stile bellissimo il fatto di avere il diciamo il posteriore lancia stratos ecco io avrei visto un restyling o un come dire una nuova lancia stratos tipo quello che è stata fatta con la l'alpha 4c 8c sarebbe stato un successo straordinario una macchina gloriosa riviste corrette in chiave moderna sarebbe stata veramente dal mio punto di vista eccezionale come altrettanto eccezionale poteva essere la lancia delta e prendere i pasti della lancia delta integrare l'evoluzione secondo me sono dei progetti che non si capisce come mai non vengano seguiti e questo è un altrettanto punto a demerito di coloro che hanno gestito questa azienda senza avere proprio una logica né né a lungo termine né tantomeno commerciale in maniera efficace questo una critica che spesso faccio passiamo un'altra vettura altrettanto interessante verrà riproposta verrà proposta la nuova reno 5 la reno 5 per i più giovani non sanno che cosa probabilmente non si ricordano io che qualche annetto più sulle spalle la reno 5 è stata una macchina gloriosa degli anni 70 70 80 ha fatto veramente un successo commerciale enorme poi la reno chiaramente ha abbandonato il progetto per altri per altri modelli e adesso così come avviene per tantissimi diciamo miti del passato chiamiamo così vengono rispolverati ovviamente in chiave moderna e questo potrebbe essere una bella operazione anche in questo caso da quello che sono le informazioni che abbiamo preso la vettura sarà inizialmente solo elettrica 100 per cento elettrica quindi bella come 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 idea i costi saranno sempre dei costi molto importanti però si parla di costi non inferiori a 25 mila euro che sono già un 10 mila euro in meno rispetto alle macchine che generalmente più economiche si trovano nuove sul mercato quindi già hanno abbassato un pochino i prezzi però si parla sempre di 25 mila euro che sono i famosi 50 milioni di anni fa quindi non è non è certo una cifra economica altra vettura diciamo che entrerà in alistino durante il 2024 sarà la nuova tesla model model j 2024 quindi anche questo caso macchine elettriche full elettriche non non mi interessano quindi non mi sono documentato in maniera adeguata so che appunto uscirà questa nuova tesla che nell'ambito delle macchine elettriche è ancora oggi la più gettonata ovviamente si parla di prezzi che non sono quelli dei 25 mila euro della della nuova reno 5 altra macchina interessante è la nuova toyota chr quindi macchina che già sul mercato da diversi anni nel 2024 verrà ristilizzata completamente con nuovi motori sarà chiaramente un crossover quindi perseguire la moda dei crossover come appunto l'alfa milano e diciamo l'unico appunto che uscirà dal listino la versione diesel purtroppo io rimango dell'idea che il diesel è oggi a livello di rapporto costi efficienza imbattibile non c'è nessun'altra macchina che possa avere un'efficienza come lì indipendentemente dal discorso inquinamento sto parlando dal punto di vista di efficienza termodinamica proprio imbattibile un'altra vettura che uscirà nel 2024 è la nuova Volkswagen Tiguan che ha avuto direi un più che discreto successo non si sa ancora probabilmente verranno mantenuti ancora i motori diesel per cui per coloro che sfidano le tendenze che portano a condannare il diesel in maniera totale ci sono ancora molti che sostengono appunto questo tipo di motorizzazione e magari fuori dei grossi centri abitati ancora veramente molto senso per coloro che fanno tanta strada quindi la nuova Tiguan prevederà appunto ancora una motorizzazione diesel e benzina in versione 1500 e 2000 quindi versione 150 e 190 cavalli le altre due macchine che sono degne di nota sono la nuova Toyota Yaris GR cioè quella piccola bomba terraria che hanno lanciato non tanto un paio di anni fa in Toyota la Yaris GR è veramente una macchina straordinaria una macchina praticamente da pista vestita o adattata per la strada in questo caso tecnologicamente verrà ulteriormente migliorata con tanti miglioramenti tecnici e sappiamo bene che Toyota, almeno per quello che mi risulta, per quello che so è a livello tecnico e di assemblaggio oggi secondo me è imbattibile cioè se dovessi citare la casa migliore in assoluto come qualità essendo scadute leggermente anche le tedesche che per antonomasi erano veramente efficienti tipo BMW, Audi, anche Mercedes se vogliamo, Toyota, la qualità Toyota non è mai scesa di un gradino quindi tanto di cappello il fatto che abbiano ed è una delle pochissime sportive vere stradali che sono rimaste, veramente poche, veramente poche quindi complimenti a Toyota che metterà sul mercato o che svilupperà ulteriormente questo modello perché è veramente un modello eccezionale l'ultima che abbiamo citato nell'elenco è la nuova Golf a questo punto come era successo per la Serie 7 hanno fatto la Serie 7 e poi hanno fatto il restyling via di mezzo chiamiamo così, hanno fatto la 7.5 anche in questo caso è stata lanciata la Golf 8 e quest'anno verrà lanciata la Golf 8.5 aspettando la Golf 9 ecco è l'unico, appunto, chiaramente sarà diversa come carrozzeria come implementazioni tecniche l'unico appunto anche in questo caso purtroppo uscirà da listino quello che è la versione GTD che ritengo ancora oggi potrebbe essere una soluzione assolutamente valida purtroppo la tendenza è quella io spero che prima o poi si ritornerà a parlare di diesel magari con carburanti alternativi basso inquinanti è secondo me ancora molto 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 da dire una motorizzazione di questo genere io spero di esservi stato utile è una puntata un po' diversa dal solito almeno avete una traccia sulla quale riflettere nel momento in cui siate in procinto di comprare una macchina nuova per il momento è tutto un saluto, alla prossima! a